La maledizione dei minuti finali si abbatte ancora sulla Nissa, che esce dal Vincenzo Presti sconfitta nel derby contro il Gela per una rete a zero. La società biancoscudata, rimasta in dieci nel primo tempo per l'espulsione del cenocambista di Biase, ha avuto alcune palle gol non sfruttate dai propri attaccanti. Partita a tratti contratta, con ambedue le squadre che cercavano il varco giusto per vincere la partita. Nei minuti finali di gara il varco giusto lo trova il Gela, che con D'Amico riesce a trovare il gol vittoria superando il portiere biancoscudato Chimenti. Ancora una volta gli uomini di Alessio Sferrazza vengono superati nei minuti finali, sintomo di una squadra che non riesce a rimanere concentrata sino all'ultimo minuto. Eccellenza, Cilone A, ventitresima giornata. Castellammare Casteldaccia 3 a 0. Cus Palermo Mazzara 1 a 1. Parmon Valciacca 3 a 4. Don Carlo Misilmeri Resuttana 5 a 0. Enna Leonfortese 0 a 0. Nuova Città di Gela Nissa 1 a 0. Profavara Acragas 0 a 1. Mazzarese Oratorio San Ciro e Giorgio 2 a 1. La classifica. Enna e Acragas 55 punti. Profavara 48. Don Carlo Misilmeri 44. Mazzarese 41. Mazzara 39. Sciacca 38. Casteldaccia e Nissa 28. Leonfortese e Oratorio San Ciro e Giorgio 25. Castellammare 21. Nuova Città di Gela 19. Resuttana 17. Cus Palermo 16. Chiude la Parmonval a 8. E' suprima. Toi. Converti.